Buonasera, siamo in diretta con il Presidente Salvatore Caiata. Buonasera a Poca, buonasera a Poca. Fa tutto vergogna, fa tutto vergogna. Fa vergogna quello che è successo in campo, mi assumo la responsabilità, mi assumo la responsabilità di quello che sta succedendo. Oggi vincono tutti quelli che volevano distruggere. Oggi hanno vinto, ho perso io, ho perso io oggi, perde il potenza, mi assumo la responsabilità. Non esiste che noi veniamo aggrediti, non esiste. Va bene tutto, abbiamo sbagliato, ho sbagliato sportivamente, abbiamo perso tutto quello che vuoi. Dopo quello che abbiamo fatto e la serietà che abbiamo messo, non lo posso accettare. La squadra è qua, chiunque può venire, chiunque. Visto che sono stato invitato ad andare via, accolgo, sono qua, la metto a disposizione. Va bene, venitela a prendere, venite a chiunque. Mi avete detto che devo andare via, pronto, a disposizione. Via, sono qua, a disposizione, potete venire, venite a prendere, chiunque. Quindi, per me l'esperienza finisce qua, potete fare quello che volete. Bellissimo, l'umanità è proprio una cosa straordinaria, straordinaria, straordinaria. Esibizionista, buffone aggredito sulla macchina. È qua la squadra, venite a prendere. Chiudi.